Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Antonella Clerici torna in TV con Sempre Mezzogiorno, polemiche in arrivo. A partire dal 9 settembre Antonella Clerici farà il suo ritorno sul piccolo schermo con la trasmissione quotidiana di Sempre Mezzogiorno su Rai 1 in onda alle 11.55. Tuttavia l'annuncio della nuova stagione dello show non è stato accolto senza riserve a causa della presenza di un membro fisso del cast che sembra non essere molto apprezzato dal pubblico. Chi potrebbe essere questo personaggio tanto discusso e qual è il motivo per cui un programma così popolare giunto alla sua quaquinta stagione sta suscitando così tante controversie. Scopriamo insieme cosa sta preoccupando i fan del programma condotto da Antonella Clerici e non solo. Le polemiche sembrano essere scaturite dalla presenza di un membro del cast che non ha convinto appieno il pubblico, generando così una certa agitazione tra gli spettatori abituali dello show. La quinta stagione di Sempre Mezzogiorno si apre dunque con un'ombra di incertezza sul futuro del programma e sulle reazioni che potrà suscitare tra il pubblico. Nonostante ciò Antonella Clerici si prepara a tornare alla conduzione del programma con il suo consueto entusiasmo e professionalità, pronta a regalare ai telespettatori momenti di intrattenimento e spensieratezza. Resta due stai nel scopo così nirino su un'influone in dimensione dello show o se calcorrere la sua propria popolarità continui crescendo in un rito.